cinque minuti marta cinque minuti ma per cosa per la nuova stagione di teatro sofia anzi per la nuova mezza stagione non esistono più le mezza stagioni ma come non esistono più certo che esistono non esistono più le mezza stagioni si è passata il caldo 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 al freddo marta sto parlando della nuova mezza stagione di teatro sofia che va da ottobre a dicembre del 2021 e cosa succede succede che tutti gli artisti verranno qui a presentare i loro spettacoli monologhi spettacoli con più artisti più espressioni artistiche un sacco di roba insomma la stagione eh sì aspettiamo le vostre proposte scrivete a infochiocciola teatrosofia.com per la nuova mezza stagione di teatro sofia anzi non esistono più le mezza stagioni cut scriveteci